Amici, ciao, buonasera, sono qua per fare un video in cui vi spiego meglio cos'è questo discorso del cortometraggio. Stiamo cercando, insieme a tutti gli altri con cui sono solito fare questi cortometraggi, di cercare di raccogliere più fondi possibili per poter produrre questo cortometraggio. Un cortometraggio che parlerà in modo ironico e leggero, come il nostro costume fare, del problema della disoccupazione, della guerra tra poveri che ci si fa in questo periodo. Non vi preoccupate, non dovete dare se volete, intanto non siete obbligati a donare, ma se volete darci qualcosa, quello che volete, anche un euro va benissimo, non vi preoccupate, grazie. Niente, lo dico solo un attimo in francese perché ci sono anche gli amici francesi che magari ci vedono. Les amici, les amici francesi, noi siamo là per cercare dell'argento, c'è un esempio, per fare un cortometraggio. Se voi volete dare qualcosa, noi siamo contenti, se non ne le doniamo, siamo contenti comunque, ma non bisogna dare molto l'argento, anche un euro, ci va bene. Grazie, anche se voi volete partagere le video, ci va bene anche a me. Oh, merci e a tutti a l'heure.